Dallo scorso 2 aprile, data di insediamento degli eletti a Palazzo Moffa ad oggi, il Consiglio regionale si è riunito solo 16 volte ed ha approvato pochissime leggi, tra le quali spiccano nuove norme in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, il fondo di solidarietà destinato alla città della scienza di Napoli, la legge che ha aumentato l'addizionale regionale su IRAP, IRPEF e sul Bollo Auto, nonché la legge numero 10 che ha aumentato gli stipendi ai consiglieri ed ha disciplinato il finanziamento ai gruppi consigliari. Intanto, proprio sui gruppi regionali, prosegue l'inchiesta del PM Nicola D'Angelo sulle spese pazze sostenute tra l'anno 2007 e il 2011, dalla Procura a distanza di 4 mesi dal termine delle indagini effettuate dal Gigo della Guardia di Finanza, non filtra alcuna notizia, ma, secondo indiscrezioni, sarebbero una quarantina i consiglieri e gli ex consiglieri coinvolti a vario titolo. Per alcuni di loro i reati ipotizzati sarebbero quelli di truffa e peculato. Giova solo ricordare che per molto meno in Basilicata si è sciolto un intero consiglio regionale e si torna alle urne. Ma nel Molise non c'è mai limite al peggio. Infatti, oltre alle indagini della Guardia di Finanza e al resoconto della Corte dei Conti relativo alle spese pazze e ingiustificate dei gruppi riferite all'anno 2012, per un importo complessivo di oltre 700.000 euro già inviato in procura, il Consiglio regionale, con la legge numero 10 del 25 luglio, ha stabilito un finanziamento destinato ai 14 gruppi pari a 434.343 euro all'anno, da suddividere tra i 21 eletti a Palazzo Moffa. Ciascuno di loro, inoltre, usufruisce del corrispettivo di un collaboratore di categoria D6, come stabilito dal decreto Monti. Per fare un paragone con le altre regioni, va evidenziato che i 30 consiglieri della Basilicata, regione con 587.517 residenti, ai 10 gruppi consigliari è destinato un finanziamento complessivo pari a 179.375 euro e quindi un terzo del Molise. Al Veneto, 60 consiglieri, 9 gruppi e 4.857.210 abitanti sono assegnati in totale 542.860 euro all'anno. La sproporzione scaturisce dalla circostanza che il finanziamento previsto dal decreto Monti di 5 centesimi per ogni residente nel Molise è stato moltiplicato per i 21 consiglieri, mentre in tutte le altre regioni tale importo viene diviso per i singoli eletti. Appunto, dalle nostre parti il limite al peggio non esiste.